Un punto di informazione turistica nel cuore di Ragusa Ibla, il libero consorzio comunale ha tra le proprie prerogative anche quello di curare la promozione e l'informazione turistica e per questo ha deciso di aprire un infoturista Ibla, allocato all'interno del palazzo La Rocca, uno sportello quindi che si occuperà di fornire al turista tutte le informazioni necessarie per visitare nel miglior modo la città e tutto il territorio ebleo. L'obiettivo è comunque duplice, da un lato garantire nel cuore del quartiere barocco un efficace servizio di accoglienza e informazione e dall'altro valorizzare un bene culturale come palazzo La Rocca, ubicato in una zona di attrezione strategica. Per il commissario straordinario del libero consorzio Dario Cartabellotta, oggi il valore aggiunto dell'informatore turistico risiede proprio nella sua specifica e approfondita conoscenza del territorio, oltre che nella sua capacità di creare una rete di persone in grado di fornire notizie attendibili e qualificate. In questo modo, stabilendo un contatto diretto e permettendo al visitatore di vivere un'esperienza in linea con quello che cerca.